Ok, si sente anche qui che è un po' bloccato, ok, poi dopo possiamo anche salutare lei. Lui farà anche come questa volta, qualche seduta si sente meglio, poi se ne va, non è giusto. No, ma il dottor Caruso è molto bravo che in una seduta, due massimo, mi raddrizza come se fosse un bambino. Quello è solo togliere il dolore e poi devi fare il lavoro sui tessuti e tutto quanto.